Preoccupante la lunga scia di incendi che continuano a registrarsi nel Salento. A Torre San Giovanni, frazione marina di Ugento, è stato distrutto dalle fiamme il chiosco bar all'interno della stazione di servizio Real Carburanti, nella stessa località dove 24 ore prima dei malviventi avevano appiccato le fiamme a tre veicoli, di proprietà di una famiglia di imprenditori. Qui si è reso necessario l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, partite da di staccamenti di tricaso e Ugento. Quando i pompieri sono giunti sul posto la situazione era abbastanza critica, anche per la presenza di diverse bombole di GPL che hanno reso le operazioni complesse. Le fiamme hanno provocato danni davvero ingenti, riducendo la struttura in un ammasso di lamiere contorte. Le lingue di Fuoco hanno peraltro intaccato la copertura di una serra vicina. Sconosciuta al momento la natura dell'incendio, carabinieri e caschi rossi propendono per la pista dolosa e si sta cercando di chiarire eventuale correlazione con l'episodio avvenuto appena 24 ore prima. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione, sono intervenuti i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano.